Da ieri sta iniziando ad arrivare nelle buste paga di circa 10 milioni di italiani il bonus di 80 euro introdotto dal governo di Matteo Renzi attraverso il decreto IRPEF. La domanda più ricorrente è come verranno impiegati questi soldi. Secondo uno studio condotto da Coldiretti, quasi un italiano su quattro tra quelli che hanno appena ricevuto il bonus, ha dichiarato di volerlo utilizzare per andare più spesso a mangiare fuori o per fare una spesa migliore. Gli italiani nei primi anni della crisi, ricorda Coldiretti, hanno rinunciato soprattutto ad acquistare beni non essenziali, ma una volta toccato il fondo hanno iniziato a tagliare anche sul cibo, riducendo al minimo il disprechi e orientandosi verso prodotti low cost. Secondo l'indagine Coldiretti XE, una maggioranza del 38% utilizzerà i soldi per far fronte alle spese familiari, bollette in scadenza, tasse, visite mediche, mentre il 18% li metterà da parte per risparmiare. L'8% impiegherà questi soldi per pagare debiti a conferma della difficile situazione che stanno continuando ad attraversare le famiglie italiane.